salve amici oggi annunceremo alcuni treni dalla stazione di bologna centrale il treno alta velocità frecciarossa 94 90 di tren italia proveniente da salerno e diretto a venezia santa lucia delle ore 11 01 e in partenza dal binario 16 sotterraneo ferma rovigo padova venezia mestre i livelli executive business sono in testa al treno su questo treno è disponibile il servizio di ristorazione il treno regionale 17 7 4 9 di tren italia t per delle ore 11 04 per porretta terme e in partenza dal binario 5 ovest ferma in tutte le stazioni il treno intercity 604 di tren italia proveniente da pescara centrale e diretto a milano centrale delle ore 11 05 e in partenza dal binario 4 ferma modena reggio emilia parma fidenza piacenza lodi la prima classe è in coda al treno il treno regionale 17 5 4 9 di tren italia t per delle ore 11 06 per rimini e in partenza dal binario 9 ferma in tutte le stazioni il treno regionale 17 4 0 9 di tren italia t per delle ore 11 10 proveniente da parma e in arrivo al binario 7 attenzione allontanarsi dalla linea gialla il treno regionale 16 0 3 6 di tren italia delle ore 11 10 per verona porta nuova e in partenza dal binario 3 ovest ferma calderara bargellino osteria nuova san giovanni in persiceto crebalcone san felice sul panaro mirandola poggio rusco ostiglia nogara isola della scala il treno italo alta velocità 99 74 di nuovo trasporto viaggiaturi proveniente da napoli centrale e diretto a milano centrale delle ore 11 e 11 e in partenza dal binario 16 sotterraneo non effettua fermate intermedie il treno alta velocità freccia rossa 93 11 di tren italia proveniente da torino porta nuova e diretto a napoli centrale delle ore 11 e 12 e in partenza dal binario 18 sotterraneo ferma firenze santa maria novella roma tiburtina roma termini napoli a fragola i livelli executive business sono in testa al treno su questo treno è disponibile il servizio di ristorazione il treno regionale veloce 39 94 di tren italia delle ore 11 e 12 per venezia santa lucia è in partenza dal binario 11 ferma san pietro in casale ferrara rovigo monselice terme ugane padova venezia mestre il treno alta velocità frecciarossa 85 06 di tren italia proveniente da roma termini e diretto a bolzano gozen delle ore 11 e 13 e in arrivo al binario 17 sotterraneo attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma verona porta nuova rovereto trento i livelli executive business sono in testa al treno su questo treno è disponibile il servizio di ristorazione il treno regionale 91 8 1 5 di tren italia ti per delle ore 11 e 18 per vingola è in partenza dal binario 4 ovest il treno regionale veloce 24 97 di tren italia ti per proveniente da milano centrale e diretto a rimini delle ore 11 e 18 è in partenza dal binario 6 ferma imola castel volonese faenza forlì cesena il treno regionale di treno regionale 17 4 9 5 di tren italia ti per delle ore 11 e 18 per imola è in partenza dal binario 7 ferma bologna san vitale san lazzaro di sapena ozzano dell'emilia varignana castel san pietro terme il treno alta velocità frecciargento 88 10 di tren italia proveniente da bari centrale e diretto a milano centrale delle ore 11 e 18 è in partenza dal binario 3 ferma modena reggio emilia parma la prima classe è in testa al treno il treno regionale 22 4 5 3 di tren italia ti per delle ore 11 e 20 proveniente da mantova è in arrivo al binario 8 attenzioni allontanarsi dalla linea gialla il treno regionale 90 3 0 3 di tren italia delle ore 11 e 20 proveniente da budrio è in arrivo al binario 3 est attenzioni allontanarsi dalla linea gialla il treno italo alta velocità 89 0 6 di nuovo trasporto viaggiatori proveniente da roma termini è diretto a venezia santa lucia delle ore 11 21 è in partenza dal binario 16 sotterraneo ferma ferrara padova venezia mestre l'ambiente smart è in testa al treno il treno regionale 17 8 8 3 di tren italia ti per delle ore 11 24 proveniente da poggio rusco è in arrivo al binario 1 ovest attenzioni allontanarsi dalla linea gialla il treno regionale 17 9 5 2 di tren italia ti per delle ore 11 25 per ferrara è in partenza dal binario 10 ferma bologna porticella castelmaggiore funo center gross san giorgio di piano san pietro in casale galliera poggio rusco coronella il treno alta velocità frecciarossa 95 27 di tren italia proveniente da milano centrale è diretto a salerno delle ore 11 e 27 è in partenza al binario 19 sotterraneo ferma firenze santa maria novella roma tiburtina roma termini napoli a fragola napoli centrale i livelli executive business sono in testa al treno su questo treno è disponibile il servizio di ristorazione il treno regionale 17 7 5 4 di tren italia tiber delle ore 11 32 proveniente da podretta terme è in arrivo al binario 7 ovest attenzioni allontanarsi dalla linea gialla il treno regionale veloce 39 10 di tren italia tiber proveniente da ancona è diretto a piacenza delle ore 11 33 è in partenza dal binario 1 ferma castelfranco emilia modena reggio emilia parma fidenza fiorenzuola il treno regionale veloce 39 15 di tren italia tiber proveniente da piacenza è diretto a ancona delle ore 11 34 è in partenza dal binario 3 ferma in tutte le stazioni il treno regionale 18 11 7 di tren italia delle ore 11 33 per prato centrale è in partenza dal binario 1 est ferma bologna san vitale bologna mazzini bologna san ruffillo rastignano musiano pian di macina pian oro monzuno grizzane morandi san benedetto val di sabro vernio montapiano cantagallo baiano il treno regionale 17 9 5 3 di tren italia tiber delle ore 11 35 proveniente da ferrara è in arrivo al binario 11 attenzione allontanarsi dalla linea gialla annuncio cancellazione treno il treno regionale 17 8 8 8 di tren italia tiber delle ore 11 36 per poggio rusco oggi non sarà effettuato ci scusiamo per il disagio il treno alta velocità frecciarossa 95 20 di tren italia proveniente da salerno è diretto a milano centrale delle ore 11 36 e in partenza dal binario 16 sotterraneo ferma reggio emilia alta velocità medio padana milano rogoredo i livelli executive business sono in testa al treno su questo treno è disponibile il servizio di ristorazione il treno regionale 17 7 5 1 di tren italia tiber delle ore 11 37 pre marzabotto è in partenza dal binario 6 ovest ferma bologna borgo panigale casteldevole casalecchio garibaldi casalecchio di reno borgo novo sasso marconi lama di reno il treno regionale 17 4 9 0 di tren italia tiber delle ore 11 e 42 proveniente da imola è in arrivo al binario 9 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma rimini riccione pesaro ancona pescara centrale termoli foggia barletta bari centrale brindisi i livelli executive business sono in testa al treno il treno alta velocità il treno alta velocità velocità frecciarossa 98 08 di tren italia proveniente da torino portanuova è diretto a lecce delle ore 11 e 42 e in arrivo al binario 6 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma rimini riccione pesaro ancona pescara centrale termoli foggia barletta bari centrale brindisi i livelli executive business sono in testa al treno su questo treno è disponibile il servizio di ristorazione il treno regionale veloce 39 97 di tren italia delle ore 11 e 46 proveniente da venezia santa lucia è in arrivo al binario 10 attenzione allontanarsi dalla linea gialla il treno regionale 91 8 1 2 di treni italia t per delle ore 11 e 47 proveniente da imola è in arrivo al binario 10 attenzione allontanarsi dalla linea gialla il treno regionale veloce 24 70 di treni italia t per delle ore 11 e 50 per milano centrale è in partenza dal binario 3 ovest ferma anzola sanogia castelfranco emilia modena rubiera reggio emilia santilario parma fidenza fiorenzuola piacenza lodi milano rogoredo milano lambrate il treno regionale veloce 37 53 di treni italia delle ore 11 e 51 proveniente da verona porta nuova è in arrivo al binario 1 ovest attenzione allontanarsi dalla linea gialla il treno euro city 84 di treno nord proveniente da rimini è diretto a monaco di baviera delle ore 11 e 52 è in partenza dal binario 4 ferma per una porta nuova rovereto trento bolzano bressanone fortezza brennero brember in sbruck jambac bergle custa e rosenei munca e nostre annuncio ritardo il treno regionale veloce 17 5 4 4 di treni italia t per delle ore 11 e 54 proveniente da rimini arriverà con un ritardo previsto di 50 minuti diversamente da quando già annunciato per un vasto al treno ci scusiamo per il disagio il treno regionale 17 8 8 5 di treni italia t per delle ore 11 e 57 proveniente da poggio rusco è in arrivo al binario 7 attenzione allontanarsi dalla linea gialla il treno regionale 92 7 7 di treni italia t per delle ore 11 e 57 proveniente da porto maggiore è in arrivo al binario 4 est attenzione allontanarsi dalla linea gialla il treno italiano alta velocità 99 27 di nuovo trasporto viaggiaturi proveniente da torino porta nuova è diretto a roma termini delle ore 11 e 57 è in partenza dal binario 19 sotterraneo ferma firenze santa maria novella roma tiburtina l'ambiente smart è in testa al treno attenzione avvisiamo ai viaggiaturi che la stazione è sorvegliata dalle telecamere e i bagagli incustoditi verranno presi dalla polizia a 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